Grazie a tutti per questa produzione così significativa. Adesso vedremo dai profili operativi, noi non poniamo limiti temporali al dottor Cassini perché la relazione è ben granita, pur che non si arriva questa sera, la mano c'è nella prima. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 è un contratto assolutamente anato e quindi non dimenticando la sua vocazione di essere anche autorità di concorrenza e quindi nella volontà di esercitare questa funzione in un contesto più ampio di fair competition direi, ha da subito iniziato a guardare i settori, ad analizzare facendo delle richieste di informazioni chiedendo quindi condizioni in generale di contratto e modelli contrattuali di più operatori per poi fare un'analisi pre-istruttoria e avviare le istruttorie ove necessario gradando il suo intervento anche magari accompagnandolo nei confronti di operatori che presentavano problemi minori con gli interventi presenti a dimora la suezione. Ed è quello che ha fatto nei settori in due anni e mezzo di vita, diciamo la direzione generale, la direzione, in caso di istruttoria nell'ambito della direzione generale, l'ha fatto nel settore appunto del noleggio a breve termine, l'ha fatto nel settore di forniture e manutenzione degli ascensori per i condomini, lo ha fatto nel settore immobiliare, lo ha fatto nel settore dei danni, del recupero danni da mala sanità, lì con l'intervento di tuttora di alcuni interventi di moral suasion, lo ha fatto nel settore dell'e-commerce, lo ha fatto nel settore dei servizi idrici, con un procedimento che riguardava le imposità pregresse, cioè il tema che era stato già trattato come pratica immobiliare scorretta, ma che viene affrontato su un'assignazione di osservazione dei consumatori in quanto previsto in condizioni generali. Questo approccio settoriale appunto voleva essere anche un pochino di unito a questo approccio volto a analizzare anche le clausole che nel corso delle istruttorie le imprese presentavano per risolvere il problema. Vedete, questo è un problema che si possono sin dall'inizio nelle istruttorie, per esempio, dell'autonomeggio. Le imprese come Eurocar, come Maggiore, come Mississippi by Car, da subito ci dissero benissimo, adesso noi stiamo facendo un procedimento sul clausole dei servizi, noi non riteniamo siamo vessatori, ma se voi poi concludeste per la vessatorietà, noi dal giorno dopo cosa facciamo? Se noi firmiamo, non so, 500 contratti al giorno in tutta Italia, cosa ci scriviamo? E quindi l'autorità, diciamo, anche con un approccio che io, come vuol dire, in cui personalmente ho creduto sin dall'inizio di un steggiamento, diciamo, proattivo, anche di aiuto alle imprese in un ambito effettivamente non facile, perché valutare la vessatorietà delle imprese di fronte a una giurisprudenza non particolarmente estesa, cioè ci sono pronunce in materia di vessatorietà delle clausole, ma è una giurisprudenza tutto sommata, abbastanza limitata. E quindi, diciamo, questo approccio è stato un approccio di valutare coerentemente col potere di rispondere agli interpelli preventivi delle imprese, di valutare nell'ambito delle 29 istrutture che sono state svolte anche le clausole che le imprese, come interessate, non sempre è accaduto, è successo in 27 casi su 29, le clausole che le imprese si siano dimostrate, diciamo, desiderose di presentare all'autorità in modo da chiudere il procedimento con un quadro in qualche modo più definito, sia sulla vessatorietà di alcune clausole dell'oggetto di istruttoria, sia anche con riferimento a clausole che potessero sostituire per le precedenti e in qualche modo risolvere il problema nei confronti del mercato e nei confronti dei consumatori. Venendo, tornando agli aspetti più procedimentali, quindi abbiamo visto che ci sono le istruttorie che sono state inviate in ufficio su signorazione e una cosa importante è che come nella materia più generale, della materia del consumatore, ma anche in materia di pratica commerciale scorrette, un approccio, diciamo, che l'autorità, sicuramente, ha puntato molto anche nel piano di tutti gli incontri che annualmente e la cadenza, anche gli incontri l'anno si sono svolte con le associazioni, l'autorità sempre, diciamo, di fronte a associazioni di consumatori segnalanti, le ha fatte automaticamente parte di questi procedimenti, così come ogni qual volta c'è stata una manifestazione di intervenire nei procedimenti avviati, le associazioni sono state, questa istanza di intervento è stata accolta e sono state rese parte dei procedimenti. Una particolarità, i diritti ovviamente di presentare memorie, di documenti, di essere ascoltate se lo ritenessero portato. Una particolarità di questo procedimento è una particolarità che, posso dire, è stata apprezzata anche a livello unitario nell'ambito di un progetto dell'autorità Italia aderito, che si chiama European and Fair Terms Strategy e che si è articolato in set di incontri in giro per l'Europa. Questa è la caratteristica di pubblicare le clausole su cui l'autorità avvia un'istruttoria sul proprio sito e dando la possibilità così alle associazioni dei consumatori, delle imprese e al sistema camerale di partecipare inviando commenti. Evidentemente questo è un strumento molto importante perché dà modo appunto di acquisire conoscenze innanzitutto e soprattutto in una fase iniziale in cui si affrontava una materia, come ricordava Giovanni, di public enforcement del tutto nuovo per l'autorità, in cui siamo cercati, ovviamente con i nostri limiti, ma di entrare un pochino in punto di piedi, essendo una materia prettamente civilistica, era un modo molto utile per acquisire conoscenze, acquisire esperienze di chi, come il sistema camerale, come le associazioni di imprese, evidentemente di queste materie, di questa materia delle clausole gestatorie, si occupavano, si sono occupate per molto tempo. E devo dire, come vedremo, che le associazioni hanno sempre partecipato, le associazioni di consumatori, purtroppo mai il sistema camerale, questo forse è stato, però è stato un contributo utile e io credo che in prospettiva sia un contributo, una forma di partecipazione che meriti di essere ulteriormente sviluppata. Quindi c'è questo obbligo di consultazione online e l'autorità ha la possibilità di richiedere pareri, quindi diversamente dalla materia delle parenti commerciale scorrette, non c'è un obbligo di chiedere pareri, per esempio, all'autorità di regolazione, ma può chiedere pareri e questo è accaduto in un interpelle importante in materia di assicurativa di RC Auto, dove si dibattiva sulla clausola che consente alle imprese di vietare l'accessione del credito agli autoreparatori. Era una questione piuttosto controversa e di non facile soluzione è stato chiesto un parere all'IPAS ed è l'unico interpello che è disponibile sul sito proprio per la rilevanza che avevano avuto moltissime associazioni, soprattutto in categoria di autoreparatori che avevano segnalato questa vicenda. I punti di istruttori sono potenzialmente quelli di chiedere informazioni che è fondamentale, evidentemente dovendosi occupare di clausole utilizzate, clausole attuali e quindi è fondamentale avere le condizioni generali di contratto in uso, i modelli e i modelli formulari attualmente utilizzati e anche se in molti casi questi erano presenti per esempio online, ma non in tutti i casi, per esempio non sono mai disponibili per esempio nel settore immobiliare. La possibilità di fare ispezioni c'è sulla carta, non è stata utilizzata perché in realtà non c'è stata l'esigenza di usare questo strumento in quanto le imprese hanno sempre come risposta a nostre chieste informazioni mettendo a disposizione i modelli, quindi non c'è stata finora questa necessità. Lo strumento delle perizie non è stato utilizzato ma è stato chiesto un parere all'IVAS nel caso dell'RC Auto, la possibilità di fare utizioni invece è stata sempre utilizzata nell'ambito dei procedimenti ed è stato uno strumento, un momento di confronto importante anche nel quale i 27 casi su 29 hanno manifestato la volontà di sottoporre all'autorità nuove clausole per risolvere i problemi di questa autorità. tra le caratteristiche dei procedimenti di clausole prestatorie sono oltre quindi questa pubblicazione iniziale all'inizio del procedimento per acquisire eventualmente commenti dal sistema camerale insieme all'associazione delle imprese e dei consumatori quello di pubblicare ed è l'unico strumento diciamo che in qualche modo l'autorità ha oltre all'accertamento della messa di autorità e che assomiglia un pochino allo strumento della pubblicazione che è l'idea eventuale nell'articolo 37 del coche del consumo, c'è la possibilità che un pubblico ordini della pubblicazione su un motivo quotidiano della misura inibitoria. Qui invece è uno strumento normale, cioè non c'è nessuna discrezionità nel disporlo o meno quando si accerta avesse l'autorità di una clausola in relazione alle clausole in cui è accertata la messa di autorità si dispone alla pubblicazione sul sito internet del professionista e in alcuni casi il sito internet o non c'era o non era più disponibile e sarà disposto alla pubblicazione per estratto su un quotidiano e oltre ovviamente al bollettino dell'autorità che è disponibile online. I poteri sanzionatori come ricordavo all'inizio non ci sono, però ci sono per informazioni false o non complete, questo non è stato mai utilizzato, invece è stato utilizzato in caso di inottemperanza all'obbligazione, si è verificato in un caso, solo in un caso in un piccolo operatore nel settore immobiliare che tra l'altro aveva trascorsi con la Camera di Comercio di Roma e che aveva inibito il procedimento dell'attività e quindi c'è stato un avvicendamento di un soggetto formalmente diverso, noi riteniamo forse lo stesso, ed è in corso un procedimento di inottemperanza nel che si concluderà nei primi mesi del 2015. La moral solution è uno strumento appunto importante perché è uno strumento preistruttorio e consente un dialogo in presenza di clausole non particolarmente rilevanti, penso per esempio a una classica, il foro che vi è indicato il foro non del consumatore o del professionista, ecco da dove ci siano profili diciamo anche quantitativamente diciamo meno clausole diciamo problematiche per uno strumento che sta utilizzato, utilizzato come successo e nel sito delle autorità voi vedrete traccia di alcune di questi interventi, per esempio un intervento importante che si è svolto in materia di un strumento di moral solution che è tuttora in corso riguarda il settore del fitness, cioè delle reti di palestre che riguardano diciamo veramente decine di migliaia di consumatori per ciascuna rete e rifletto un intervento che per esempio gli inglesi dell'office of free trading hanno fatto proprio con lo strumento della moral solution, andando a diciamo per esempio a colpire le clausole di rinno automatico da dove il termine di sdetta fosse troppo lungo, le clausole di esonimo totale di irresponsabilità, quelle clausole per esempio che non consentivano la sospensione, l'interruzione o il recesso da un avvolamento in presenza di perdere lavoro, spostamento del loro lavoro, gravidanza, infortuni gravi. Tutti questi interventi noi li stiamo conducendo, noi li stiamo conducendo in questo settore, il costruente della moral solution. E vengo alle caratteristiche dell'interpello molto rapidamente, dunque l'interpello è uno strumento di dialogo, così l'ho intesa l'autorità se non per me correttamente, tra le imprese e l'autorità. Per fare l'interpello c'è un formulario che va riempito in ogni sua parte, questo è importante perché il set informativo è fondamentale, anche perché l'autorità ha poi 120 giorni per dare una risposta. L'autorità ha sempre rispettato questo termine, anche perché è un termine decadenziale, in moltissimi casi, però la risposta di interpello è stata data ben prima dei 120 giorni, l'ultimo riguardato TIS in gruppo nel settore dei contratti di mutazione dell'ascensore. L'interpello è preventivo, cioè prima dell'adozione di una clausola, l'interpello può essere fatto solo, lo dicevo, dall'impresa e non direttamente, cioè non da associazioni di imprese, anche perché la redazione di clausole contrattuali, di contratti da parte delle traduzioni di imprese, lo dico per inciso, è, se c'è qualche problema concorrenziale lo può porre, perché anche, come dire, le condizioni contrattuali sono uno strumento di concorrenza, e possono essere uno strumento di concorrenza virtuosa, o viceversa possono essere uno strumento di coordinamento tra le imprese. solo sulle, dunque, sulle clausole potenzialmente avvistatori, l'interpello non può essere chiesto inoltrando una condizione generale di contratto, si chiede l'interpello su tutto, si può chiedere su più clausole, per l'unica delle quali il formulario richiede che venga spiegato soprattutto la razio, e cosa molto importante, qual è l'origine di quella clausola, perché è successo che venisse sottopossa in interpello una clausola che aveva un'origine, per esempio, camerale, e allora avere il background, diciamo, della provenienza e andare a valutare il perché una certa camera di commercio avesse dato questa indicazione era evidentemente un'informazione importante da tenere nella tutta considerazione. Un aspetto molto importante che il formulario sottolinea e che vedremo è che è stato poi oggetto di frequente analisi da parte dell'autorità è l'aspetto della chiarezza. Voi sapete che nel codice del consumo, all'articolo 35,1, 34,2, e adesso le norme di ricevimento della Consumer Rights con riferimento alle informazioni precontattuali, sottolineano il fatto che le clausole devono essere sempre chiare e sempre comprensibili. Questo sembra un aspetto minore, non lo è affatto, è una sentenza del 30 aprile di quest'anno della Corte di Giustizia, nel caso C26-13, in cui l'autorità propose al governo italiano di intervenire, e erano i più pregiudiziati, infatti i governi italiani hanno intervenuto. Questa sentenza ha chiedito l'importanza, già per il vero chiaro, sia nella direttiva del 93, sia nell'analoga formulazione della norma di ricevimento, dicevo l'articolo 34,2,35, l'aspetto della chiarezza e della comprensibilità delle clausole è proprio, in qualche modo, e questo è una chiarità molto bene a Corte di Giustizia, rappresenta quasi un principio fondante di tutta questa disciplina. Se una clausola non è comprensibile, è vessatoria quasi di per sé, e questo è ovviamente chiaro, perché una clausola può essere vessatoria, ma se non è comprensibile, direi, per come la vedo io, è sicuramente vessatoria. E quindi la Corte di Giustizia ha chiedito che la clausola deve consentire, nell'ambito di un contratto di mutuo, deve consentire al consumatore di capire le implicazioni economiche che la sottoscrizione di quella clausola comporta, che possono essere particolarmente, come dire, pesanti. Qui si trattava di un buco espresso in una valuta straniera e tutto il costo delle rate veniva parametrato a una valuta straniera, con un meccanismo complicatissimo di cui il consumatore non poteva in qualche modo rendersi pienamente conto e pienamente comprendere. Ma l'esempio di clausole è che non chiare e non comprensive, ce ne sono, direi, in ogni contratto. Quindi l'autorità, sin dal inizio, ha dato molta importanza a questo aspetto e se voi passate l'assegna, soprattutto i procedimenti del 2014, i provvedimenti troverete ampio riferimento a questo elemento di chiarezza e comprensibilità. E anche nell'interpello, quindi, nel formulario sin dal inizio, ha in qualche modo l'indicazione che le clausole da sottoporre all'interpello devono essere prima di tutto un formulario di maniera chiara e comprensibile. Termini preventori, l'abbiamo detto, la consultazione in questi casi è eventuale ed è avvenuta nel caso, appunto, che vi dicevo, dell'interpello di Vittoria, in cui essi sono pubblici. Ora, qui, brevemente, si racconta, in questa slide, quella successiva, del numero di interventi. Primo, che è stata la partecipazione a una segnalazione dell'autorità al governo, proprio in materia di chiarezza e trasparenza delle clausole. Numerose sono le preistruttorie a carattere settoriale, da cui sono germate, alcune delle quali, su un pulso di associazione di consumatori, 29 istruttorie che si sono concluse. I settori sono, come ho accennato prima, con forniture e montezioni ascensori, servizi idrici, servizi di vigilanza privata, su cui settori, su cui abbiamo scelto tantissime spiegazioni, anche da parte di imprese, nei confronti delle quali, purtroppo, diciamo, la disciplina delle clausole istruttorie, diversamente, come ricordava Giovanni, dalla materia del pari commerciale squadre, non vale la tutela delle altre imprese. Danni della malassanità, autoneggio a breve termine, vendita online di prodotti digitali, intervigiazioni studiare. Le prime interpello sono state 11, devo dire, meno di quello che inizialmente si teneva, è una verità, perché il timore era proprio di essere inondattita e quindi invece, forse per il timore delle imprese di una procedura farraginosa e dagli esiti c'è, forse per la novità dello strumento, è stato usato limitatamente. In un caso, vedete che ci siamo occupati anche dei servizi legali. Lo dico perché questo spesso, cioè l'applicazione delle norme sui clausole istruttorie anche al settore legale, cioè da dove ci siano dei contratti standardizzati tra avvocati e consumatori, era stato affermato dalla Corte di Cassazione e ripreso in una nostra pronuncia in proposito in serie di interpello, ma recentemente, il 15 gennaio 2015, anche la Corte di Giustizia, in una causa C537 del 2013, ha ribadito esattamente questo principio, cioè che laddove vi siano rapporti standardizzati, tratti per i sposti per la fornitura dei servizi legali, la disciplina delle clausole istruttorie nei confronti dei consumatori è applicabile. Quindi in qualche modo abbiamo anticipato, però a livello c'era un orientamento della Cassazione già in questo senso. Le moral suasion, appunto, concluse, delle norme, ma alcune sono ancora in corso, hanno riguardato i servizi idrici, i servizi di vigilanza privata, il settore bancario e proprio sulla base dell'articolo 35 che, per esempio, dei moduli più importanti del gruppo bancario sono stati che riguardavano il costo il, diciamo, chi prestava garanzia, il costo il complicato, il complicato, cioè chi prestava una garanzia per un credo personale e questo obbligato da cui derivavano, essi sostanzialmente, i fili di usore enormi oneri in caso di mancata distribuzione. Esattamente. Quindi, soprattutto nel modulo consensuale si parla solo di complicato e non c'è nessuna descrizione di quali fossero i diritti, ma soprattutto gli obbligati. ... Questo importante gruppo bancario, prima del gruppo, ha impatto completamente i moduli e su questo tengo a dire che la Camera di Commercio di Genova aveva, diciamo, che ci aveva segnalato questo caso, aveva in vano cercato di intervenire e l'intervento di moral solution dell'autorità è stato ben andato a conferire. Ancora, nel settore assicurativo, nel settore delle carte di credito e dell'interminazione immobiliare, dove l'autorità ha porto in totale otto interventi nei confronti, diciamo, di grosse catene, tra cui Toscana, forse la più scorretta devo dire, che era quella, diciamo, che aveva ricevuto, aveva avuto anche più da racconto perché c'erano dei problemi e, da ultimo, l'ultimo provvedimento adottato è del 19 dicembre, quindi molto recente, ricostruzione di Mobile Dream. La pratica di Mobile Dream è che è un operatore che, oltre a svolgere l'attività in terminazione tradizionale, però in maniera marginale, vende soprattutto immobili su pianta e immobili in costruzione, quindi da costruire in costruzione per grossi costruttori di immobili e quindi per la prima volta è stata affrontata la tematica della vendita di immobili ancora da costruire, quindi il problema della chiarezza, ecco la FF5, della descrizione dell'immobile, che nella turistica era, che potete vedere, riportata nel provvedimento, era soltanto descritto in maniera molto succitta, quindi, diciamo, è dato. E poi tutta una serie di profili piuttosto complessi. Mi avvio a concludere. In questo slide ci sono un pochino i tratti comuni, diciamo, di questi istruttori che sono state svolte, che sono essenzialmente il fatto che sono state istruttori di tipo settoriale. Alla consultazione via web, che appunto abbiamo visto viene lanciata, all'inizio istruttori hanno sempre partecipato delle soluzioni di imprese, purtroppo mai il sistema camerale, e solo realmente le soluzioni di imprese. Quindi le soluzioni di consultorio hanno partecipato, a mio avviso, in maniera molto utile, molto costruttiva, però è uno strumento che, a mio giudizio, ha dei margini di miglioramento, nel senso che è davvero uno strumento che può consentire all'autorità di abbandonarsi di un set informativo più ampio, anche di esperienza, e per le imprese, per le associazioni dei consumatori di fornire importanti servizi di tipo. In tutti i provvedimenti viene dato ampio risalto ai contributi che le associazioni forniscono, rispondendo a questa costruzione online. Quindi è un aspetto che credo che, anche in termini di visibilità, siccome vedo che sia un aspetto non marginale per la situazione, è un lavoro sottolineare. Le imprese, in 27 casi o 29 casi, hanno proposto modifiche e l'autorità le ha valutate nell'ambito del stesso procedimento. Le imprese hanno sempre ottemperato e attualmente, se pure andate sul sito di Mobile Dream, vedrete, c'è nella home page un'icona da cui potete accedere al provvedimento dell'autorità, all'estratto del provvedimento dell'autorità. A un esempio attemperato, salvo in caso, appunto, marginale, oggetto di un percento sanzionatorio di attemperanza. Finora c'è stata una ridottissima incidenza del contenzioso, evidentemente il fatto che non ci siano sanzioni è una delle spiegazioni, e l'altra, secondo me, è questo approccio, secondo me, proattivo e anche lungimirante dell'autorità di trattare nello stesso procedimento anche le nuove clausole. Questo, diciamo, ha risolto un problema di incertezza giuridica per le imprese, per i consumatori e, evidentemente, ha ridotto gli incentivi anche delle imprese a impugnare. L'unico caso di un'impresa che ha impugnato anche le clausole che questa stessa aveva proposto è quello di Toscano, che vuol dire con un comportamento davvero molto scorretto, ma abbastanza incontenzibile. L'esigenza di chiarezza delle clausole, questo è l'elemento della sentenza di cui vi parlavo prima, e l'ultima cosa che vorrei sottolineare è un modo di raccordo con la disciplina delle pratiche commerciali scorrette. E cioè, si è posto, sin dall'inizio, un problema di, visto anche le diverse procedure, i diversi poteri, che il rapporto ci fosse da parte commerciali scorrette e clausole sottoline. È sembrato, sin dall'inizio, che ci fosse un rapporto di accentuata complementarità tra queste due competenze e che talvolta le pratiche commerciali scorrette assorbissero anche i profili di diversatorietà nella misura in cui, per esempio, si proprietasse un settore di pratiche commerciali scorrette che fosse molto più articolata e molto più vasta nella tipologia di condotte che veniva da presentarsi. C'è una condotta successiva che questa fosse addirittura prevalente sulla clausola. E, evidentemente, in ambitoria su una condotta travolge in modo anche la clausola, perché se la condotta è scorretta e a monte c'è una clausola, più contiene meno. E, viceversa, con un'ipotesi, al contrario, nell'ipotesi riguardando il procedimento sui danni da Malasaita, il provvedimento obiettivo risarcimento che trovate sul nostro sito, lì le parti erano invertite perché, in realtà, il problema poteva avere anche dei profili di scorrettezza, come tra l'ipotesi non c'è scorrette, ma era prevalentemente contrastuale. C'era forse un problema di non corretta comunicazione, ma a gradire solo quella avrebbe lasciato risolto i profili contrastuali decisamente gravi e decisamente gravi. Quindi, l'intervento è stato un intervento di clausola prestatorie e piuttosto efficace, come puoi dire, con una prima collaborazione da parte delle imprese. Io avrei concluso e qualsiasi domanda... Grazie. 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 Grazie.